Saranno quasi 600.000 i turisti che arriveranno a Napoli nei ponti festivi, circa il 12% in più rispetto allo scorso anno. Nello specifico, per il lungo ponte, che comprenderà quest'anno sia le festività pasquali che il 25 aprile e il primo maggio, saranno circa 570.000 i passeggeri previsti in arrivo in partenza dall'aeroporto di Capodichino, 175.000 sulle rotte nazionali, 375.000 sui voli di linea internazionali e 20.000 sui voli non di linea. A dirlo è proprio l'aeroporto internazionale di Napoli. Secondo la GESAC, infatti, questo incremento si può giustificare perché il network dei collegamenti crescerà a 106 destinazioni, 15 nazionali e 91 internazionali. Proprio per questo è stato inaugurato il collegamento con Bilbao e il nord della Spagna, disponibile due volte a settimana. Durante i prossimi mesi, Voloteo opererà da e per Napoli circa 7.000 voli, pari a 930.000 passeggeri, con un incremento di 140 posti. rispetto al 2018. Sarà inoltre inaugurato un volo diretto per Amsterdam, inizialmente solo di sabato e domenica, ma nei prossimi mesi, quegli estivi, di luglio-agosto, sarà giornaliero, collegamenti necessari per avvicinare Napoli al mondo e per far sentire tutto il mondo un paese.